ciao a tutti benvenuti o ben ritrovati nel canale ivi e lascia vivere se questo è il tuo primo video grazie per esserti fermato o fermata in questo canale parlo di vivere in uk cioè la playlist vivere in uk ovviamente anche adesso dopo la brexit c'è una playlist che si chiama salvare più soldi possibile dove io parlo del mio stile di vita minimalista perfetto imperfetto che sia e un'altra ancora playlist che si chiama studio artistico che è quella dove avrò messo questo video sicuramente perché diciamo che non lo so c'è anche di artistico su video ok ragazzi nel video io parto subito in tromba in questo qua parlando di come ho convertito una parte del mio happy planner 18 mesi nell'album fotografico di ralph il mio gatto ok ragazzi allora io vorrei però ci tenevo a dirvi prima di farvi vedere effettivamente questo video la conversione eccetera eccetera che io in quanto persona minimalista tendenzialmente non stampo foto non stampo foto cerco di veramente avere meno foto possibile e non attacco per la casa a molte fotografie ok da una parte perché ragazzi diciamoci la verità chi segue questo canale lo sa sto cambiando una media di una casa all'anno quindi io sono consapevole che più cose io c'ho e più cose poi devo spostare tra una casa e l'altra quindi uno si evita anche di farsi album e album di fotografie che poi rimangono inesorabilmente da spostare diventano un oggetto in più da spostare tra una casa e l'altra purtroppo in inghilterra io una stabilità abitativa non l'ho mai trovata ora vediamo in questa casa se il padrone mi butta fuori anche da questa lo scopriremo la prossima estate ok e poi perché quante volte ragazzi noi abbiamo stampato foto con persone e poi dopo queste persone escono dalla nostra vita e noi queste foto intorno non ce le vogliamo più no e quindi magari le strappiamo e niente allora è molto più facile fare un click nel telefono scancellare la foto e la persona che ci interessa a scancellare in maniera molto più ecologica no proprio con un click basta con questo non significa che io sono contro fare foto e video anzi un discorso della tecnologia che c'è adesso che voi potete riempire memory card e memory card e chiavettine di foto e video che non occupano tanto spazio è meglio no anzi quando uno viaggia quale mezzo più potente se non foto e video per ricordare tutto quello che avete visto no io sono preferisco fare 5 6 memory card strapiene di foto e video che comprare un singolo souvenir ragazzi se faccio un viaggio proprio perché il souvenir sta in casa occupa spazio prende la polvere e la memory card invece il ricordo no di tu la metti e come per magia tu rivivi tutte le atmosfere del viaggio o quasi tutte ok e sono un po contro appunto la stampa per un discorso ecologico un discorso di spazio e quant'altro questa cosa detto questo però io ho deciso comunque di fare un video scusate un album fotografico del gatto perché il gatto io la vedo molto dura che possa costituire per me un ricordo brutto e non penso che il gatto sia in grado di deluvermi come possano fare le persone insomma sono sicura che un album fotografico del gatto sarò sempre felice di averlo anche perché io non ci speravo di riavere un gatto io non pensavo che niquil terra avrei appunto ripreso il gatto e quant'altro perché per tanti motivi però ora che l'ho ripreso sono felicissima di averlo e diciamo che gli do un certo valore no questo gatto è deciso anche di fargli l'album fotografico l'album fotografico io comunque vi lascerò il video in descrizione è parte di un happy planner io ho ordinato un happy planner 18 mesi quando mi è arrivato però i 18 mesi partivano da luglio 2022 quindi avevo sei mesi che non utilizzavo ovviamente perché non nel 2022 per il 2022 avevo già una agenda quei sei mesi ho deciso di convertirli nell'album fotografico di ralph e ora vi farò vedere la composizione dell'album fotografico di ralph però ho voluto fare appunto questa premessa la premessa della stampa delle foto ecco non stampo molte foto questo ci tenevo a dirvelo e adesso che ve l'ho detto io vi lascerei al video allora nel video dell'unboxing del happy planner vi ho fatto vedere che ho questo happy planner da 18 mesi ok preso il 26 ottobre arrivato il 7 novembre e quindi chiaramente sei mesi non mi servono per la pianificazione e quindi ho deciso con quelle pagine che non utilizzerò come planner di creare un album fotografico per ralph cosa è successo lo possiamo a questo punto siccome il sistema è fatto con questi dischi qua e quindi voi potete disassemblare come volete un happy planner se avete dei dischi in più io questi qui li ho comprati mi sembra su amazon e sono di plastica ok e quando potrò ho capito che sono meglio quelli di metallo comunque questi sono dei dischi di plastica di dimensione diciamo medie ok questo happy planner qua c'ha le dimensioni più grosse ok e cosa ho fatto ho preso e deciso semplicemente di rimuovere i primi sei mesi e di tenerli a quel punto tutti insieme grazie a questi dischi di plastica qua io mi sono scelta c'avevo due colori rimasti perché mi sono scelta diciamo il colore dorato per il notebook perché me lo tengo quello come effettivamente quaderno che utilizzo ogni giorno quelli argentati per un altro notebook ok e a quel punto i dischi che sembrano tipo oro rosa per l'album di ralph siccome ci sono dei tratti rosa no nella palette colori di questo happy planner quindi ci stanno anche piuttosto bene secondo me questi dischi rosa quindi niente ho preso tutti i mesi che non mi andavano ovviamente nel 2023 e l'ho messi tutti insieme con i dischi rosa per creare un album di foto per ralph come copertina mi sono limitata a utilizzare ralph sopra a uno dei designer di happy planner aggiungerà l'una la scritta e basta e questa è la parte dietro della copertina una volta stampata secondo me risultava abbastanza gradevole e quindi ho tagliato via gli angolini perché gli happy planner in copertina non ce l'hanno gli angolini a punta gli ho tagliato gli angoletti e poi l'ho plastificata ragazzi potrei averla plastificata con questa plastificatrice qui della kodak casa reccia anche lì dopo tagliato la plastica in eccesso e ho ritagliato anche lì gli angolini per seguire appunto la carta per fare in modo appunto che sembrasse il più possibile la copertina di un happy planner sono andata a quel punto a perforare la copertina con questa perforatrice a fungo che ho comprato da craftelier dimenticando di averla usata e contro usata e quindi non l'ho pulita per bene e ho avuto problemi a bucare questa copertina ma tanti praticamente la copertina mi è rimasta letteralmente intrappolata nella foratrice e mi si sono rotti alcuni fori come vedete e quindi ero rimasta super male ragazzi perché ho pensato di doverla stampare nuovamente e invece poi mettendola nei dischi diciamo che non si nota particolarmente i fori rotti ok comunque questo è una cosa appunto fatta per me personale quindi anche se non è perfetta ragazzi chi se ne frega in realtà il risultato finale mi soddisfaceva abbastanza e non ho voluto buttare via altro inchiostro a ristampare tutto da capo e altra plastica altro tempo ho deciso che poteva andare bene anche così siccome non so grulla due volte ho pulito per bene la foratrice a fungo per la copertina di dietro e a quei punti fuori mi sono venuti perfetti per la pagina interna ho riproposto di nuovo la luna e ralph il coricino la scritta foto e per quella la copertina finale ho preso un altro di nuovo il designer ho messo il nome ralph che dice no ralph anche le stelle ti ammirano insomma sono stata molto molto soddisfatta del risultato e questi sono i miei due quaderni ottenuti dopo aver separato i mesi che non mi servivano del 2022 e il mio happy planner del 2023 insomma sono contentissima di questi due quaderni secondo me sono super super bellissimi per decorare poi il quaderno di ralph no e farlo sembrare effettivamente un porta foto avevo da eliminare diciamo tutto quello che ricordava il fatto che fosse in realtà un'agenda e quindi prima di tutto chiaramente nascondere la scritta luglio nel divisorio perché inizialmente avevo pensato anche di tagliarla poi mi sono detta ma non la nascondo con un adesivo e ho preso un altro set di adesivi happy planner che questi sono tipo happy planner journal e ho deciso di utilizzarne una che aveva i svoltini dorati perché appunto avrebbe ripreso un po il dorato del resto del tacchettina lì del talloncino e ci ho scritto the beginning ma non perché voglio fare la spaccona che parla inglese ma perché suona in inghilterra così se qualcuno mi vede l'album di foto capisce che c'è scritto all'interno poi ragazzi avevo già cominciato a sistemare delle foto di ralph me ne dovrebbe entrare sempre almeno quattro no in ogni ogni due pagine due per pagina e queste sono le prime foto che io ho avuto di ralph dove lui era super magro triste però io mi sono voluta tenere stampare anche queste per ricordare che comunque lui ha un passato non bello ok a questo punto cosa dovevo fare dovevo anche lì rimuovere il talloncino con la scritta luglio e quindi ho usato un altro adesivo ci ho scritto prima fotografie e poi l'ho attaccato per coprire la scritta luglio nel frattempo ralph ha voluto intervenire per supervisionare i lavori al suo buco fotografico comunque il resto della struttura del dell'agenda l'ho coperto un po con i washi tape che ne odia veramente alcuni molto 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 carini e poi gli adesivi del happy plan cosmic watercolor e quindi ho cercato un po di coprire tutta la struttura ora scusate questo gatto comunque ragazzi dicevo washi tape poi ho scritto un pensiero carino perché a quel punto mi rimanevano diverse linee diciamo preimpostate no che si prestavano bene quindi ho voluto scrivere un pensierino e poi ragazzi utilizzato alcuni adesivi del blocchetto cosmic watercolor quindi diciamo con la stessa linea la stessa linea insomma design del happy planner stesso del guaderno fatto per ralph e secondo me l'idea appunto funziona perché una volta nascosta l'evidenza cioè il fatto che sia stato un calendario come porta foto funziona ora l'unica cosa che non mi ha convinto dopo che però l'ho già fatta è stato l'aver messo le stelline nella foto che sembra più che delle stelline un ectoplasma anche se poi ancora meglio come ectoplasma era questa specie di nuvolone fantoziano che l'ho attaccato in un modo che sembra che fuoriesca dalla ex cuccetta di ralph e svomitarsi per il resto del foglio però ormai ce l'avevo messo e l'ho lasciato vabbè al limite mi verrà da ridere ogni volta che lo vedo invece che da piangere per via delle condizioni di ralph nelle foto dopo aver posizionato gli ectoplasmi ho continuato coprendo le linee che facciano parte dell'agenda ok per trasformare l'agenda nell'album di ralph e ho coperto tutti i numerini che c'erano fatta eccezione del 28 perché apparentemente tre anni perché ralph ha tre anni e in età umana sarebbero 28 anni e quindi il numero 28 siccome era lì l'ho voluto lasciare come messaggio subliminare a me stessa e questo ragazzi è come appare l'album fotografico di ralph dopo essere stato convertito da agenda a appunto album fotografico ragazzi il video finisce qua spero che è stato interessante per voi e se è stato interessante lasciatemi un pollice in alto iscrivetevi al canale per altri video come questo e girate in ambienti scomodi ok in ambienti scomodi tipo scimmia in gabbia però va bene se il video mi ha fatto pena e schifo lasciatemi un dislike iscrivetevi al canale per altri video così artiste reggi ok e al prossimo video del canale ivi e lascia vivere ciao